ciao a tutti benvenuti oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante che è quanto possano essere pericolose le parole marketing e promozione io qua metterò musicale ovviamente no spero vediate allora nello scorso video parlavo di diciamo strategia contro tecnica quindi in questo caso strategia contro strumenti perché per tutta una serie di ragioni che vi potete andare a vedere nel video oggi viviamo in una situazione di mercato completamente satura lo sapete no ormai ormai sono un disco rotto da questo punto di vista no quindi cosa succede che venite chiamati emergenti e io la prima domanda che faccio sempre perché è una parola che odio è dire ok che cosa vi viene in mente se io vi dico emergere emergenti viverà a me solo a pensarci mi viene mi manca il fiato perché perché è proprio in quella parola no il fatto di dover emergere il fatto di dover uscire da una situazione che è molto sfavorevole per cui cosa vuol dire essere nella mia mente si instaura il concetto tra virgolette di essere in questo caso sott'acqua no quindi questa sarà la mia linea no il mio mare e io sono sott'acqua e quindi non respiro cosa succede che un modo quindi per chiamare secondo me questa questa diciamo questa parola per usutilizzare questa parola in un altro modo forse più funzionale è il fatto di chiamarvi artisti sommersi ok siete degli artisti in un momento ovviamente sommerso siete sommersi no quindi cosa succede no cosa succede se vado oltre che una parola che potrei usare prima di andare poi all'interno del discorso è proprio usare invece il termine esordiente le parole sono molto importanti ragazzi no prima di capire appunto questo concetto perché voi pensate alla parola esordiente sono sicuro che vi verrà in mente qualcosa di molto più positivo qualcosa che ha a che fare con un lavoro ed un esordio no e come diceva uno dei produttori con cui ho lavorato tanti anni roberto maccagno produttore e sound engineer fortissimo lui diceva sempre tanto ogni artista per ogni lavoro sarà sempre un esordiente bisogna mantenere questa mentalità da esordiente per cui io vi invito questo era un invito che se qualcuno domani dirà emergenti prendete la prima cosa che vi capita e tirategli addosso di un termine che non va bene non funziona ora che cosa succede che ovviamente nel mezzo di questa saturazione noi abbiamo la nostra benedetta musica ok oggi ci mettiamo anche un accento in prima posizione ok quindi cosa succede che in quello che è il mondo l'andamento di oggi e qua mi ricollego al video scorso ci stanno convincendo che per emergere quindi per uscire siano necessari appunto che cosa degli strumenti ok ora se avete visto il video scorso capirete che quello che dicevo qual era detto in breve in breve che gli strumenti di base sono uno uguali per tutti e due garantiscono sì un risultato ma molto circoscritto ovviamente cosa succede che ogni strumento quindi per strumento intendo strumento pubblicitario posso fare ad esempio di google ads di facebook ads di tante delle piattaforme che ci sono che ci vendono degli strumenti no per per poter tra regolette o per farci credere di emergere quindi cosa voglio dire che questi strumenti hanno ovviamente un costo ok e siamo ci hanno convinto io direi che sono gli strumenti a garantirci un risultato ma che io dico sempre è un risultato circoscritto a che cosa al al quel singolo evento e quindi già su questo proprio perché un esordiente deve bilanciare molto bene le sue finanze e deve ponderare bene ogni sua mossa e quindi deve deve rifarsi a quello che dicevo l'altra volta una strategia il fatto di ricorrere a determinati strumenti spesso è un grandissimo e gravissimo errore ma ora vado all'ultimo schemino no che è quello che magari vi fa capire perché io ho fatto l'incipit di questo video dicendo dicendovi marketing e promozione oggi possono essere veramente pericolosi perché perché se io sono un artista sommerso no cosa succede che devo riuscire ad emergere in qualche modo quindi tutti i miei sforzi sono dedicati tra virgolette alla alla volontà alla voglia di un'emersione no e allora però cosa succede che nel mondo di oggi siamo bombardati appunto da strumenti perché facciamo un esempio pratico io sono mi trovo in fondo al mare cioè sono sommerso dall'acqua ho quindi una diciamo economia o meglio ho un ossigeno limitato ok e devo trovare il modo di emergere arriva un personaggio che si chiama il personaggio strumento che cosa fa oggi il personaggio strumento mi dice e guarda che vedo che sei in una condizione che è un po critica guarda però ho quello che fa per te ti vendo un bel un bellissimo salvagente di ultima generazione guarda è incredibile è perfetto questo salvagente costerà 1500 però ti garantisco che con questo strumento tu non avrai più problemi per cui verrai a galla faccio l'esempio google ads i più grandi errori che vedo fare sono proprio negli investimenti pubblicitari cioè perché dico questo ok perché se io mi trovo in una in questa condizione ci sarà una ragione ok e come dicevo nel video precedente la strategia è ad hoc per quello è molto più difficile per alcuni personaggi vendervi tra virgolette strategie perché la strategia deve essere costruita ad hoc sul progetto perché dico questo perché voi magari non lo sapete ma avete una catena una corda che vi tiene legati ad un grande peso quindi voi cosa fate attraverso questo signore che è venuto da voi dicendovi guardate non ti preoccupare io ho la soluzione per te ho questo salvagente che è meraviglioso vi spendete i soldi nel vostro salvagente vi aggrappate questo salvagente non sapendo che siete legati al fondo da qualche cosa c'è qualcosa nel vostro progetto che non sta funzionando e che vi tiene ancorati al fondo per cui cosa fate voi vi aggrappate questo salvagente se vi va bene ok riuscite a prendere un attimo una boccata d'aria dopodiché vi ritroverete di nuovo sommersi perché perché il salvagente non serve a un tubo in questa situazione per cui cosa succede avete speso i vostri soldi non avete ottenuto nessun risultato se non un risultato temporaneo per quello che questo signore vi ha venduto con il suo salvagente che vi ha permesso un attimo di riuscire proprio a risalire un attimo la china per prendere una boccata d'aria e siete morti lì ok ora un altro scenario invece è quello scenario strategico e quando parlo di scenario strategico per quello che io vi dico fate sempre molta attenzione a come investite le vostre le vostre finanze a come progettate il vostro il vostro percorso musicale perché perché è importante soprattutto se siete degli esordienti soprattutto per quello per cui cosa succede no e questo secondo me vi farà magari anche un po sorridere io sono in questa situazione quindi ho la mia ancora che mi tiene sotto ok e arriva questa benedetta parola strategia io sto facendo un esempio banale stupido ma poi ovviamente adesso capirete perché vi faccio questo esempio ok io quindi cos'ho qua ho la diciamo signora strategia allora signora strategia passando di lì guarda e mi dice ma che ci fai lì sotto cosa 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 succede e dice aspetta un secondo questo ragazzo qua mi sa che se rimane lì sotto ancora un po è sommerso rischia di affogare mi muore no e quindi cosa dice aspetta un secondo facciamo una cosa intanto cerchiamo di capire qual è il problema per cui chiamo il mio collega raccontandogli il problema e dicendogli guarda secondo me come prima cosa porta a una piccola bombola di ossigeno così di tanto in tanto diamo un po da respirare a sto ragazzo se no poverino è sommerso ci schiatta lì allora cosa succede che un primo piccolo step allora iniziamo a dire ah ok va bene ma guarda stai tranquillo stai calmo inizia a raccontarci un po che cosa è successo c'è qualcosa che ti tiene legato a quanti metri di profondità sei perché sei finito in questo punto del mare che cosa è successo inizia a capire il contesto di questo personaggio qui che è il tuo progetto musicale ed è la strategia sul tuo progetto musicale allora a un certo punto dice ragazzo questo stava andando a pescare io mi sto inventando delle cose però lo vedrete mentalmente allora questo è finito il mare questo punto doveva andare a si è incagliato questa cosa è rimasto legato cazzo ecco dov'è il problema è rimasto legato ad uno scoglio che c'era sul fondo e quindi finché noi non lo sleghiamo è inutile che gli butto salvagente perché questo rimarrà incastrato sul fondo allora cosa faccio allora aspetta un secondo chiamo il mio collega sommozzatore dico vai un po sotto a vedere cosa c'è allora qui c'è un ostacolo qui c'è un ostacolo qui c'è un altro ostacolo e dice servono cinque persone ok prendiamo queste cinque persone e andiamo a liberarlo ok per cui togliamo iniziamo a lavorare prima su questo ostacolo poi su questo poi su questo ad un certo punto tutta questa squadra arriverà a sganciarvi da questo vi siete liberati allora a quel punto cosa faccio ti tiro il salvagente ok questo è un discorso banale ragazzi ma fidatevi che io vi invito a rivederlo e rivederlo perché perché a questo punto allora anche lo strumento diventa importante ma fate caso di una cosa per ogni sezione del percorso ok quindi per ogni diciamo risalita ok era necessario comunque uno strumento ma era uno strumento misurato cosa vuol dire io sono partito col dire ok ma analizziamo il contesto perché tu ti trovi qua perché sei in mezzo al mare perché sei finito qua eccetera eccetera una volta che l'ho capito dico ok aspetta un secondo ho un primo tra virgolette strumento collega un io ho fatto l'esempio del sommozzatore che va a vedere perché questo questa persona è sott'acqua ok e quindi inizia a vedere aspetta ci sono questi problemi su cui lavorare allora voi un passetto alla volta io adesso qua ho fatto uno due tre quattro cinque puntini ma potremmo farne diversi ok allora un passetto alla volta attraverso una strategia quindi attraverso la strategia poi è ovvio che avrete necessità nel vostro percorso degli strumenti ma è un percorso molto ponderato e quindi quando arriverete ad esservi liberati da questa situazione allora a quel punto è ovvio che possiamo sfruttare ancora meglio la capacità che abbiamo di utilizzare determinate strumenti ma vedete qual era la situazione voi immaginatevi ok se eravate e se siete sommersi e siete incastrati ditemi a che vi serve lo strumento che vi possa che vi vendono per far venire galla questo succede tantissimo oggi succede tantissimo perché guardate quanto ve la menano col discorso legato alle pubblicità ma dovete pubblicizzare il vostro progetto allora per pubblicizzare il vostro progetto oppure ah potete farvi l'ufficio stampo allora vi vendiamo la lista ci sono delle persone che andrebbero arrestate veramente per questa roba perché perché è facile vendere lo strumento se voi siete in difficoltà è una cazzata arrivare lì a dirvi ah stai fogando aspetta guarda oh c'è giusto un salvagente per te cosa fai lo compri o non lo compri ed è per quello che ti fregano invece la strategia è ad hoc la strategia è pensata deve essere per forza pensata sulla sul progetto sull'artista sulla persona diverso è se io sono incastrato sotto perché sono ipotesi per farvi un altro esempio mentale se io sono incastrato perché sono andato sotto eccetera quindi mi trovo sommerso in una modalità oppure se la sera prima mi sono bevuto dieci birre sono caduto in mezzo agli scogli e sono finito in mezzo agli scogli per cui rischio di rimanere affogato è un altro contesto è un'altra situazione non posso usare la stessa strategia che ho usato per lui perché se no quella persona non la saldi per cui è questo quello che cerco di far capire io ai progetti dovete avere una strategia chiara e per avere una strategia deve essere ad hoc e deve conoscere il contesto nel quale questa deve essere sviluppata ok quindi rispetto alla vostra musica rispetto al vostro genere rispetto a quello che succede nel mercato rispetto a quelle che sono le possibilità che oggi possono aprire determinate strade piuttosto che altre attraverso quello pensare ad un percorso e su quel percorso avvalersi piano piano con l'ossigeno a disposizione perché ovvio che ci deve essere un investimento chi non vi dice che non serve un investimento vi sta prendendo per il culo come anche chi vi prende per il culo dicendo ah non ti preoccupare c'è questo strumento quante volte è successo? quante volte avete investito in una pubblicità per un video su youtube che vi ha generato? vi ha generato? che avete fatto 200 euro di pubblicità per non so ricevere 10.000 views io sto sparando a caso e poi dopo con le 200 euro con le 10.000 views cosa ve ne fate? sono il vostro ossigeno non penso non penso proprio per cui ragazzi questo era un modo semplice per farvi capire quanto dovete fare attenzione a chi vi parla di questi argomenti ok dovete fare molta attenzione perché non esiste questa parola come non esiste questa parola senza questo questi strumenti il salvagente è un salvagente uguale per tutti ok quindi non è lo strumento che fa la differenza spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi ci vediamo nel prossimo mi raccomando a presto ciao